1200 giovani calciatori di 80 scuole di calcio di tutto il mondo, fra cui i brasiliani del San Paolo, Olympique Marsiglia, Juventus, Fiorentina, Aeduc e Basilea, si sfideranno nel Golden Circuit Trofeo Regione Toscana 2014, presentato in consiglio regionale dall'ideatore e direttore Fabrizio Mancini con il consigliere regionale Eugenio Gianni. Nato nel 92 come semplice quadrangolare e poi diventato il memoria dedicato a Sergio Castelletti, il Golden Circuit quest'anno comprenderà i cinque tornei promossi dal Centro Formazione Calcio per Bambini, nati dal 2001 al 2004. E al termine di tutti questi tornei vengono assegnati dei punti alle società che partecipano in base al piazzamento e alla fine la società che ha ottenuto i migliori piazzamenti e maggior numero di punti viene riconosciuta come la migliore scuola calcio fra quelle che ovviamente ha partecipato a tutto questo circuito. E' proprio grazie all'impegno che nel corso degli anni ha portato a questa manifestazione che noi possiamo essere annoverati come Toscana fra i territori che da un punto di vista del vivaio calcistico appaiono più interessanti sul panorama nazionale. I tornei si svolgeranno da aprile a giugno sui campi fra Firenze e Siena e saranno premiate anche la migliore società professionistica e la migliore società dilettantistica.